Buongiorno, volevo portare anche il mio saluto personale oltre che dell'amministrazione che ha contribuito a questo evento così importante perché mi consente anche di portare una testimonianza personale di come questa sia la strada giusta da intraprendere. Quando andai come sindaco di Napoli a San Francisco nel giugno del 2013 lavorammo a questo progetto Unite2Base molto importante per cercare di unire tra le varie cose il progetto e le start-up la città di Napoli con la città di San Francisco. Ed è nata una collaborazione molto importante che porta anche al spostamento di giovani napoletani a San Francisco e di giovani americani della California nella nostra città. Silicon Valley, l'icitata dal Vesuvio alla Silicon Valley, aggiungerei Napa Valley, quindi il tema fondamentale della riscoperta delle nostre terre e il messaggio forte passa proprio attraverso la creatività. Napoli è città della creatività e quindi è una città che deve investire nell'innovazione. Del resto anche nella nostra città e in particolare devo dire nei quartieri cosiddetti più difficili, penso alla zona orientale ma anche alla zona occidentale, gli incubatori di impresa e quindi le start-up hanno una loro valenza e una loro forza, non pensiamo solo a città della scienza, pensiamo a San Giovanni, l'area orientale, l'i-tech e l'innovazione tecnologica. Un altro messaggio forte che viene da iniziative di questo tipo, al di là della collaborazione internazionale, è il rapporto che deve essere sempre più forte tra pubblico e privato, dove ancora si registrano delle resistenze a mio avviso inaccettabili, perché per molto tempo si è pensato che quando usi la parola privato significa privatizzazione di un bene comune, non è così, dipende il privato che vuole fare. Se si vuole investire su un territorio rispettandolo, quelle risorse private possono essere utili per la valorizzazione del bene comune. Cioè mi spiego, se un imprenditore privato, può essere italiano, napoletano o internazionale, decide di investire nei giovani, nell'innovazione, nella tutela del nostro territorio, quindi per il bene comune, a mio avviso, deve essere non solo accolto con favore, ma deve essere addirittura valorizzato. Del resto moltissime iniziative. Vorrei ricordare, e penso anche al mondo dell'associazionismo, del volontariato e del mondo del terzo settore e della cooperazione. Quando organizzammo, in Italia se ne è parlato poco, ma negli Stati Uniti di più, perché è stato l'unico concerto mai realizzatosi negli Stati Uniti dove hanno cantato e suonato insieme il Teatro San Carlo e l'Opera di San Francisco, quel concerto non si è realizzato sostanzialmente con fondi pubblici, ma con una raccolta di fondi di tutti gli amanti della cultura. Allora in un momento di crisi, se stai fermo, poi c'è qualcuno che privatizza tutto, nell'ottica che dicevo prima, c'è la depredazione e privatizzazione e svendita dei nostri territori. Se invece si hanno le idee chiare, si ha una cornice pubblica di riferimento convincente, in quel contenitore possono entrare tutti i soggetti istituzionali e non istituzionali. Penso all'università, penso al mondo della ricerca, al mondo delle imprese, delle associazioni e delle istituzioni. Poi io da sindaco di Napoli, ma ci credevo anche prima, quando sono sempre stato napoletano e meridionale, credo che noi dobbiamo riscoprire il ruolo internazionale della nostra città. Napoli per 730 anni, che ne vogliono dire, è stata capitale. Quindi è una città che ha una visione internazionale, ha una profonda matrice culturale. Pensate che il consolato americano a Napoli, alla fine del Settecento, nasce prima nell'unità d'Italia. Quindi i rapporti con gli Stati Uniti li ha avuti prima Napoli che lo Stato unitario. Quindi quella è la strada, di mettere insieme energie, energie pubbliche e private, purché vadano nella direzione giusta, puntare sui giovani che ci credono. Stamattina sono andato a portare il mio saluto a 400 medici che hanno fatto il giuramento di Ippocrate e sono entrati nella professione medica e tutti sottolineavano il desiderio di non dover andare via dalla nostra città. Io dico in questa sede andar via per fare esperienza, sì, ma non andar via per costrizione. Anzi, gli scambi culturali, le start-up, lo scambio tra mondi di imprese e divisioni, credo che arricchisce la mente. Quindi auguriamoci che queste iniziative così importanti ci siano sempre di più nella nostra città e che la nostra città, che ancora oggi con tutta la migrazione ha il primato di cui siamo fieri di essere la città d'Europa con il più alto numero di giovani, possa essere sempre di più una città che diventa meta dei giovani, perché è una città in cui si può stare, in cui si può investire. Quello che devono dare le istituzioni, e chiudo, è quello di creare delle condizioni convenienti per investire. Ancora oggi in Italia, se penso agli Stati Uniti, se penso alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra, ma anche a dei paesi a noi più vicini come il Sud America, in Italia c'è ancora troppa burocrazia e c'è ancora troppo formalismo inutile. Per troppi anni abbiamo pensato che mettere tante regole significava contrastare la corruzione. Vedete quante regole ci sono in Italia, leggetevi le prime pagine dei giornali di oggi, c'è più corruzione, più regole ci sono, più formalismo c'è, più norme ci sono, più c'è corruzione e più c'è mafia, perché mafia e corruzione ci hanno avvocati, ci hanno commercialisti, ci hanno fiscalisti che gli spiegano come si fa a capire in una legge dove non si capisce niente. In un paese democratico ci sono state poche regole che le capisce il macellaio, il salumiere, l'imprenditore, il magistrato, il professore, il ricercatore. Chi sbaglia paga, regole chiare e efficaci. Quindi credo che la burocrazia sia stato un modo sostanzialmente anche per soffocare un po' le ali di chi vuole sognare e sappiamo tutti che oggi investire nella nostra città è complicato, se gli mettiamo pure la zavorra nei polpacci diventa ancora più difficile. Quindi diamo speranza a chi vuole restare nella nostra città, a chi vuole investire e soprattutto ai tantissimi giovani che vedo anche presenti oggi a questo dibattito. Grazie e buon lavoro.